Polonia e Ungheria da un lato non riconoscono la Corte di Giustizia, dall'altro vi hanno fatto ricorso contro il regolamento dell'Unione che prevede un legame tra l'esborso dei fondi europei e il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea però ha dato loro torto. Il regolamento è perfettamente coerente con le normative comunitarie, con i trattati, perché il rispetto dello Stato di diritto fa parte dei valori fondanti dell'Unione inseriti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali. Ecco dunque che finalmente la Commissione potrà far valere quel regolamento e bloccare i fondi europei verso Polonia e Ungheria o qualunque altro Stato non rispettasse lo Stato di diritto. Insomma un passo avanti importante per dare all'Unione una capacità di difendere diritti e valori dei cittadini europei in qualunque Stato membro.